19 e 15 minuti benvenuti al nuovo appuntamento con TG Verona Network. Arrestate quattro persone tra cui un pericoloso ricercato e questo è il risultato di un intervento realizzato questa mattina dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio che da alcuni giorni avevano notato e monitorato dei movimenti anomali nel centro san bonifacese verso il Vicentino, movimenti che hanno condotto a Meledo di Sarego, movimenti che avevano fin da subito fatto ipotizzare che si fosse in presenza di un giro di spaccio di stupefacenti e così la decisione di fare irruzione in un'abitazione. Una volta entrati i militari supportati dai colleghi di Vicenza hanno trovato un chilo di marijuana, 150 grammi di semi di marijuana, tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi e 3.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività delittuosa. I carabinieri hanno arrestato un'italiana di 44 anni, un romeno di 22 e due albanesi di 25 anni irregolari. Gli ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che uno dei ragazzi albanesi era ricercato per due diversi provvedimenti, uno per evasione e un altro in materia di stupefacenti ed armi. Al termine dell'operazione i tre uomini sono stati accompagnati presso il carcere di Vicenza mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari. Ex popolare di Vicenza ora, 1.750.000 euro è questo il valore complessivo del sequestro conservativo eseguito quest'oggi dalla Guardia di Finanza su disposizione del Tribunale. nei confronti dell'ex presidente Gianni Zonin, dell'ex direttore generale Samuele Sorato, oltre che di Giuseppe Zigliotto, Andrea Piazzetta e Massimiliano Pellegrini. A ciascuno dei cinque imputati sono stati sequestrati 350.000 euro. Le Fiamme Gialle avevano accertato una serie di azioni di trasferimento e dismissioni patrimoniali da parte degli imputati e per la procura c'era quindi il rischio che mancassero o si dispendessero le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di altre somme dovute all'erario di Stato. Domenica a San Zeno si elegge il papà del gnocco della 488 edizione. Un breve racconto di quello che è il Carnevale di Verona nel servizio di Marco Menini. Domenica sarà eletto il papà del gnocco. Seggia parti nella chiesa sconsacrata di Santa Maria della Giustizia Vecchia a San Zeno dalle 8 alle 13. È sfida aperta tra Enrico Zecchetto, detto Scintilla, e Paolo Fabrello, detto El Molon. Ma facciamo un passo indietro. Quali sono le origini del Carnevale di Verona? Bisogna tornare al tardo medioevo per scoprirne le radici. Tradizione vuole che il fondatore sia Tommaso Davico, un medico che nel Cinquecento dichiarò nel suo testamento che ogni anno fossero distribuiti agli abitanti di San Zeno beni essenziali come pane, burro e farina. Verona viveva un periodo complicato, in seguito ad alcune violenti inondazioni del fiume Adige e alle scorerie dei Lanzi Chenecchi di Carlo V. In questo caso fu la fame provocata dalla carestia ad innescare un'insurrezione. I cittadini il 18 giugno 1531 si ribellarono ai fornai e si accapparrarono pane e grano. Ed è qui che entra in scena il medico caritatevole Tommaso Davico, che diede da mangiare i sansenati, risolvendo almeno parzialmente la situazione. Ma questa non è l'unica interpretazione. Secondo Gian Battista da Persico, la festa del Venerdì Gnoccolar ha origine ancora più antiche, nel Quattrocento. Un venerdì particolare in cui i cittadini omaggiavano la Repubblica di Venezia allestendo un carro allegorico, detto carro dell'abbondanza. Simbolo più alto del carnevale veronese, appunto il papà del gnocco, eletto dagli abitanti del quartiere, questa prestigiosa figura cambia di anno in anno. A non variare sono la lunga barba bianca e la grande forchetta dorata in cui ha infilzato uno gnocco di patata che stringe in mano. Scintilla Omolonchi sarà il papà del gnocco della 488esima edizione. Tutti i documenti che fanno riferimento al manufatto della rondella veneziana di San Zeno in Monte sulle Torricelle sono andati perduti nel corso dei secoli e una nuova mappa organica di questa porzione di mura non esiste più. A realizzarne una nuova ci hanno pensato i geometri del Collegio di Verona assieme agli studenti dell'Istituto Can Grande della Scala. Dopo la campagna di rilievi realizzata lo scorso 15 dicembre, oggi è stata consegnata agli stessi studenti l'elaborazione delle misure della struttura veneziana realizzata proprio dai geometri del Collegio, in modo che gli alunni del Can Grande possano cominciare a completare la restituzione grafica del rilievo e studiare ed elaborare il progetto di recupero della rondella. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Lega Ambiente Verona grazie al finanziamento di Fondazione Cari Verona e vuole dare una nuova vita alla storica costruzione muraria. Si tratta di un manufatto di cotto e di terra di forma circolare con un'ampia casa matta risalente a circa 500 anni fa e alla dominazione della Serenissima. L'obiettivo è quello di restaurarla e di inserirla in percorsi storico-didattici che abbracciano la cinta magistrale di sinistra Adige. E domenica pomeriggio a Suona verrà inaugurata la nuova facciata della Biblioteca Comunale che contiene una storia nella storia. Vediamo il servizio di Miriam Scandola. Parete ritinteggiata, porta ripristinata e poi il piccolo capolavoro che troneggia al centro, una struttura ad arco costituita da pietre sintetiche a forma di libro aperto che si susseguono uno dopo l'altro. Il punto di forza è lì, nello sguardo serio di Gutenberg, l'inventore tedesco che ha permesso la diffusione della cultura come la conosciamo. Un omaggio di pietra che si lascia guardare nella nuova facciata della Biblioteca Comunale di Sonia. Il lavoro di restauro è una storia nella storia, dietro ad un nome, il progetto Son Art. Si presenterà domenica dalle due del pomeriggio in poi con tanto di prezioso concerto live a cura di Good Morning Mama. Ci saranno tutti quelli che mese dopo mese hanno discusso e progettato la facciata, prima tra tutte l'associazione Evento Tra i Salici, ma anche Rocken ed Emporio Malkovich che hanno supportato l'opera insieme al Comune. Ogni dettaglio è stato progettato insieme e poi è affidato alle cure artistiche dei giovani artigiani di Fantasy Forge. Per dare misura della dedizione, ogni libro di pietra conterrà parole che raccontano il genio Gutenberg, scritte in gotico del 1400, realizzate con la tecnica dello stampo sulla falsariga della famosa Bibbia. Non è un caso che porti il nome dell'inventore della stampa a caratteri immobili, il progetto di cittadinanza attiva dedicato ai giovani del Comune di Sona. Proprio la biblioteca del paese è diventata terreno d'elezione per gli eventi promossi dai ragazzi. Gutenberg è stato l'inventore della stampa a caratteri immobili e se vogliamo la nostra scommessa era quella di creare un punto di ritrovo, di incontro all'interno di uno spazio culturale e Gutenberg ha permesso la diffusione della cultura. Quindi per noi partire da un discorso del genere, cioè partire da quasi paradosso di riportare i giovani in un contesto culturale e farli sentire a loro agio. Scorrendo la pagina Facebook della Biblioteca di Sona arriva immediata la freschezza dei giovani volontari che la rendono viva online e offline dal marzo 2016 grazie al rivoluzionario progetto che è già pronto per farsi modello. Concerti, art sharing, fumetti, serate di briscola in biblioteca, una sequela di eventi a sfondo sociale e culturale che hanno riempito gli spazi di un luogo nato per essere vissuto. La biblioteca con il suo affascinante nuovo volto sarà dedicata a Pietro Maggi, intellettuale del territorio. E con questo è tutto. L'appuntamento è per lunedì. Da parte mia un buon fine settimana. Grazie. Grazie. Grazie.